Alla fine lo ammesso, Cristina scuccia una relazione con una persona che resta nell'anonimato, ma di cui sta sentendo molto la mancanza all'isola. La confessione è emersa in una clip mostrata da Hilary Blasi, che mostra che Cristina intenta parlare con Elena Prestes di questa persona che sta aspettando che l'ex suora torni dall'Honduras. Non sappiamo se sia una donna oppure un uomo, perché la scuccia non ne ha mai rivelato il genere, continuando a tenere vivo il mistero. Questa persona è entrata in punta di piedi senza giudicarmi per via del mio passato, ha detto la scuccia, che ha ammesso di avere conosciuto il partner a Madrid, in Spagna. All'insistenza della conduttrice sull'identità del partner, però, la scuccia perde la santa pazienza. Diciamo che vive in Spagna. Basta Hilary con le domande, ha tonato Cristina, ponendo fine ad un momento per lei imbarazzante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti